9, 10 e 11 marzo sarò al Cartumix che si terrà a Fiera Milano Raw. Sarò spesso sul palco con altri youtuber. Per tutte le informazioni seguitemi sul mio profilo Instagram. Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati su Xenoverse 2 per un avvenimento davvero speciale. Oggi, finalmente Joseph diventerà un vero Super Saiyan Blue. Io vi faccio notare però una cosa. Molti mesi fa ho già fatto trasformare Joseph in Super Saiyan Blue, ma tramite le mod, quindi è diventato un Super Saiyan Blue, un Super Saiyan White, un Super Saiyan Rosé e poi tantissime altre trasformazioni assurde. Ma finalmente abbiamo la trasformazione ufficiale del Super Saiyan Blue che, vi ricordo, vediamo se la riesco a trovare nella personalizzazione, sono riuscito ad ottenere in un precedente video. Ci ho fatto una vera guida, la trovate qui sul mio canale, andatela a guardare, ve la lascio magari in descrizione o nelle schede in alto a destra. Ed eccolo qui, Super Saiyan Blue. Consuma 500 di aura, l'avevamo già visto, trasformati in un Saiyan dall'energia divina. Questa forma ti rende incredibilmente forte, ma consuma anche la tua aura. Peccato non ci sia il Super Saiyan God. Era bello magari avere prima il Super Saiyan God e poi il Super Saiyan Blue. Voi che ne pensate? Se siete d'accordo con me, superiamo ora assolutamente i 5000 like. E vi voglio, mai come ora, adesso con l'hashtag nei commenti, Vero Saiyan, poiché oggi Joseph diventerà un vero Dio Saiyan. Vi ricordo una cosa davvero molto importante, ovvero che in descrizione trovate le mie nuovissime magliette, con la scritta Vero Saiyan. Inoltre 225 persone le avete già acquistate, quindi vi ringrazio un botto. Stanno avendo un gran successo, per cui davvero grazie. Allora, noi qui abbiamo fatto già due missioni parallele, che sono del sesto DLC, ovvero energia alle stelle e guai al torneo di Bills. Faremo le prossime provando poi altri personaggi. Vi ricordo infatti che nel sesto DLC io ho già provato Goku Ultraistinto e Jiren. Fu e C17 con gli abiti di Dragon Ball Super li proveremo nei prossimi giorni, per cui mi raccomando, iscrivetevi ora e attivate la campanella delle notifiche. Io però vorrei trovare una vera, potentissima missione parallela tosta. Proviamo a fare questa qui. I nemici, purtroppo, sono tutti cattivissimi. Ma niente che un Super Saiyan Blue non possa gestire, no? Ed eccoci qua. Io, ragazzi, sceglierò il mio Joseph, e poi porterò con me Goku Ultraistinto e Jiren, due personaggi che tanto abbiamo già visto tramite dei video. Ragazzi, prepariamoci al massimo. In nostra compagnia c'è appunto Tapion, e ora ricarichiamo subito l'energia. Ragazzi, non so cosa aspettarmi da questo Super Saiyan Blue. Non appena possibile farò trasformare Joseph per la primissima volta, in maniera ovviamente ufficiale, con la trasformazione ufficiale, in Super Saiyan Blue. Direi che possiamo farlo adesso, eh? Boom! Mamma mia, ragazzi! No, raga, devo rivederla. Aspetta un attimo, mi apri tutti i portali che vuoi, ma devo rivederla. Lo so, un attimo! Oh, che mi apri tutti questi portali? Basta! Fammi vedere la trasformazione! No, vabbè, ragazzi, è bellissima! Ed ecco a voi Joseph Super Saiyan Blue! E anche il pizzetto si è colorato di blu! No, vabbè, ragazzi, oltre ogni immaginazione. Vabbè, a questo punto andiamo al primo portale, no? Il Super Saiyan Blue, però, purtroppo, ha un problema. In pratica, la barra di energia scende, quindi ad un certo punto ci ritroviamo che Joseph diventa normale. Questo è un problema piuttosto serio, perché poi, se come me, ora, ti metti a fare pure le Supreme, la tua energia scende praticamente subito. Quindi, ragazzi, dobbiamo trovare magari un modo per riuscire a tenere quanto più tempo possibile la trasformazione in Super Saiyan Blue. È chiaro che possiamo fare pur sempre la nostra carica massima, ma non è la stessa cosa. Io vorrei un Super Saiyan Blue fisso sul personaggio, anche se, è chiaro, una cosa del genere potrebbe semplificare in maniera assurda le cose. Vediamo, ragazzi, se in uno dei prossimi video riesco a trovare una soluzione a questo problema, magari riuscendo tramite un espediente, tramite qualche trucchetto, ad avere sempre fisso il Super Saiyan Blue sul nostro patroller. Magari riusciamo a fare davvero una roba del genere, eh? Allora, ormai Metacooler è stato quasi sconfitto, quindi direi, non appena possibile, di concludere definitivamente la battaglia con lui. Sta subendo davvero tantissimi danni, gli facciamo molto, molto male. Andiamo gli alle spalle, ed eccolo qua. Lui, ovviamente, buttato a terra. Recupero un po' di energia e, ragazzi, guardate anche l'aura di Joseph, davvero molto bella così, completamente blu. E ora non resta che sconfiggere questo Freezer dorato. Per fortuna, i nemici, almeno per ora, sembra che non arrivino tutti insieme, eh? Quindi, per il momento, riusciamo ancora a gestire piuttosto bene lo scontro. Allora, è riuscito a scansarsi? E proviamo con la tempesta gigante! BOOM! Mamma mia, che danni riusciamo a fare ai nemici! E vi faccio notare che proprio in quel momento l'estetica di Joseph, Super Saiyan Blue, è stata davvero stupenda. Secondo me, col Super Saiyan Blue, non so, gli sta davvero benissimo in ogni caso. Purtroppo, però, siamo tornati normali, ma abbiamo ottenuto equipaggiamento. Vediamo un po' che abbiamo da questo lato. Ah, vabbè, Janemba e Broly. Ragazzi, Janemba e Broly, ultimamente, nelle missioni parallele, compaiono sempre. Vado col Super Saiyan Blue. Mamma mia, ragazzi, ogni volta che vedo sta trasformazione, non so, mi brillano gli occhi in maniera quasi non normale. E vai così che lo colpiamo in maniera assurda. Tra l'altro, abbiamo combinato le nostre mosse con quella di Goku e quella di Jiren. Poi, vabbè, anche Tapion probabilmente starà facendo le sue mosse. Proviamo subito a sconfiggere Janemba. Magari proviamo a fargli molti più danni. E devo capire di quanto il Super Saiyan Blue riesce davvero a potenziare la potenza di Joseph. Cioè, proprio i danni che riesce a fare Joseph. Vediamo un po'. Teletrasporto. Dai che lui riusciamo ad abbatterlo. Forza, parati. Molto bene. Oh, e basta. E ora proverei un attimino ad abbatterlo definitivamente. Peccato che mi scende sempre più energia. E quindi, seppure posso fare una Suprema, mano a mano non la posso fare più. Vai, vai, vai. Gli ultimi colpi. E vai con la Kamehameha. Vai che lo becco. Janemba sconfitto. Ci sta. Ora però preferisco ricaricare un po' l'energia e ci concentriamo poi su Broly. Tapion, ragazzi, lo sta distruggendo Broly, eh. Vediamo se riusciamo ad introdurci anche noi nella battaglia, magari con una tempesta gigante. Quindi lo facciamo a distanza, però non l'ho preso. Broly si è spostato alla grandissima. Colpiscilo. E si sposta ogni singola volta. Peccato che in questo modo perdiamo un botto di tempo. E poi ritorniamo anche normali perché giustamente la barra di energia poi finisce. Riproviamoci. Tempesta gigante. Boom! Oh, stavolta se l'abbiamo preso. Riproviamoci ancora. E no, ogni tanto purtroppo è birichino e non si fa chiappare. Vabbè ragazzi, ci ho provato. In ogni caso gli abbiamo fatto un bel po' di danni, ma adesso è arrivato il momento di fare sul serio, eh. Quindi Joseph, vai così, di nuovo col Super Saiyan Blue e assolutamente distruggiamo Broly. Proveremo anche con l'altra Suprema, eh. Ecco qua. Raffica energia, massima potenza. Gli fa comunque un botto di danni. Oh, e ci ha aiutato Misa Jiren. Ci ha aiutato a fare davvero una battaglia assurda. Molto bene. E ora probabilmente dobbiamo riattraversare il portale, no? Vediamo. Ed ora ragazzi, eliminiamo gli ultimi nemici. Vi confesso che ho fatto partire la missione parallela da capo perché fino ad ora non mi era piaciuto tanto come era andata avanti. Quindi adesso vedremo se riusciamo a fare più danni. Peccato che abbiamo iniziato già di nuovo malissimo poiché mi son beccato una Suprema da parte di, credo, chi era? Kid Boo? No, era l'altro, ovvero Cell Perfetto. Quindi direi di sconfiggere subito Kid Boo. Andiamo con la raffica energia, massima potenza. Se non sbaglio qualcun altro, ecco, sta facendo la sua Suprema per mettere in seria difficoltà l'avversario. È una cosa che sto apprezzando tanto, eh. Oh, mi ha preso alle spalle, però Jiren, ragazzi, mi ha aiutato alla grandissima. Allora, quindi ormai Kid Boo credo che sia messo seriamente male. Quindi lui lo abbattiamo, non c'è nemmeno motivo di inseguirlo. E ora resta praticamente Cell alla massima potenza. Io ne approfitto, mentre tutti lo malmenano, per ricaricare un po' la mia energia. E direi, ragazzi, che questo Super Saiyan Blue ora, traendo un po' le somme, traendo le conclusioni, sia una bella trasformazione. Bisogna vedere poi a livello proprio statistico, a livello di numeri, quanto aumenti il potere del Super Saiyan Blue. Ma a me pare effettivamente che proprio forse con le Supreme faccia il suo effetto. Poi, magari qualcuno di voi che ha più informazioni, me lo venga a scrivere assolutamente nei commenti. Perché, come sapete, ci tengo soprattutto al vostro parere, perché leggo tutti i commenti. Non riesco a rispondere a tutti, perché siete troppi, però leggo tutti. E poi, come vi dicevo, è importante capire anche questi dati. Allora, io direi di ricaricare un altro po' l'energia. Purtroppo lui si scaglia proprio contro di me. E provo se ci riesco. Purtroppo non posso farlo, volevo fare la Suprema. Vorrei provare a concludere così, ma c'è un rischio. Ovvero che Tapion possa essere sconfitto. Siccome è una cosa che devo assolutamente evitare, io vado così con la mia Kamehameha. E abbiamo la conclusione. Possiamo fare anche la conclusione Suprema. Ci spero. Vediamo un po' se arriva qualcuno. O forse dobbiamo essere noi ad andare dall'altra parte. Chi ci sarà qui? Devo stare attento a Tapion, perché in ogni caso lui è messo veramente male, eh. Spero ci sia un solo nemico, no, ce ne sono due. Ma porca miseriaccia, ragazzi, qua sarà tosta, eh. Perché guardate quanta vita hanno, mamma mia. Devo assolutamente proteggere Tapion il più possibile. Eh, sta cosa non me l'aspettavo, perché non mi aspettavo tutti sti nemici così cattivi. Devo tenere sempre un occhio sulla sua vita. Intendo quella di Tapion, perché almeno così cerco di capire se qualcuno lo sta malmenando oppure no. Tapion per ora sembra essere con me. Quindi finché è con me io riesco anche a proteggerlo un po', eh. Vai così. Quindi Darbula, malmenato come si deve. Proviamo anche a fargli più danni così. Molto bene. Però devo ricaricare ulteriormente l'energia. Sto per perdere il Super Saiyan Blue. In ogni caso vi dico questo. La missione è stata completata. Ora noi stiamo provando a fare la parte suprema della missione, che chiaramente terrei a fare. Poi, se non ci riusciamo, ce ne facciamo una ragione, eh. Però quando possibile è chiaro che noi vogliamo assolutamente il massimo. Quindi, lui lo colpiamo molto bene e andiamo di nuovo con la raffica energetica massima potenza. O meglio, raffica energia. Sono costretto a spammare le Supreme, una cosa un po' odiosa, sono sincero. Però, quando ci tocca, ci tocca, perché altrimenti perdiamo e non mi va assolutamente, no? Vediamo se riesco ad abbattere assolutamente Darbula, che mi sembra davvero fortissimo, eh. Vediamo se riesco a buttarlo giù. Boom! E lo ributtiamo a terra. Tapion, per fortuna, resta ancora con me. Meno male, ragazzi. E meno male anche che Darbula, al momento, stia combattendo con me. Anche se noto che Jiren sta prendendo un po' di schiaffi, eh. Jiren era andato anche al tappeto prima. E Goku, ultraistinto, pure messo malissimo. Ma come notate, ragazzi, queste missioni parallele effettivamente sono difficili, eh. L'ho colpito Darbula? No, perché si è messo sto nemico in mezzo. Oh, mamma mia! Mi ha preso, ragazzi. Mi ha preso e mi ha distrutto! No, vabbè, raga, non ci credo. Tapion, aiutami. Tapion, aiutami e mi raccomando, non cadere. Dai che manca pochissimo. Dai che manca pochissimo. Venitemi ad aiutare, grandissimo Tapion. E purtroppo è stato sconfitto. Davvero un gran peccato. Vabbè, non importa. Questo era solo un modo per incominciare a provare il Super Saiyan Blue. Anche perché poi, alla fine, la missione è stata completata. Ci sta, ragazzi. Ci sta davvero alla grande e abbiamo ottenuto un po' di roba. A mio parere, questo Super Saiyan Blue è una bellissima trasformazione che in realtà doveva esserci già all'inizio, qui in Xenoverse 2, però possiamo dire meglio tardi che mai, no? Io però voglio anche sempre il Super Saiyan God, però purtroppo credo che non lo avremo mai. Joseph, quindi, ha ottenuto il Super Saiyan Blue e non avrà più rivali. Questa cosa mi gasa davvero tantissimo, poiché ormai è salito ad un livello superiore. Vi aspetto ora, nei prossimi giorni, qui sul mio canale, per provare insieme tutte le altre missioni parallele, tutti i nuovi personaggi e tutte le altre novità del sesto DLC. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi ora al mio canale YouTube cliccando qui al centro, se non l'avete ancora fatto, e guardate altri video presenti sul mio canale cliccando qui a destra e sinistra. Quindi alla prossima, ciao!